Musica Benvenuti a tutti in questo nuovo video Oggi a vostra gloria non si è fatto i capelli perché li ho asciugati e li ho voluti lasciare così Vabbè, sono ancora molto molto belli come vedete Se vi siete persi il video di come e cosa ho fatto E se non vi siete accorti del cambiamento male male Recuperate subito il video che vi ho pubblicato settimana scorsa Oramai ve lo lascio qua Benvenuti in questo nuovo video Oggi, da come avete letto dal titolo, tratteremo un argomento Che avete intavolato voi dopo aver visto diversi miei video dell'argomento Paranormal, paranormal activia No, non parleremo di yogurt amici Ma parleremo delle vostre esperienze Perché vi ho chiesto di scrivermi sulla posta di Gloria Che tra l'altro vi invito sempre a lasciarmi delle mail Dove magari vi aprite, vi confidate Fate finta che siamo in una sorta di posta del cuore del cioè Vi lascio la mail scritta qua E comunque la posta di Gloria Quiocciola GloriaFair.com Super intuitiva E potete sfogarvi Potete parlarmi dei vostri ex brutti e cattivi Di esperienze divertenti Insomma, qualsiasi cosa in quel momento sentiate di fare Perché mi aiuterà per i prossimi contenuti Dato che i protagonisti sarete voi E aggiungerò anche qualche mio aneddoto Per rendere il tutto un po' più spicy e succoso Comunque, io ho stampato alcune delle vostre lettere Mi sono munita di tè No, non è birra Rigorosamente al limone Perché è team limone tutta la vita Io ho sempre preso l'estate al limone E lo amo Però dopo un po' mi viene tipo una nausetta strana Con quello dell'esse lunga Detainato ancora meglio Perché vi evita un po' di acidino di stomaco È praticamente la stessa cosa Ed è molto buono Quando vuoi essere lunga Aspetto la mia cassa di tè Di tè Comunque, come vedete qua Sono modalità TG E come sapete Sono anni Che vi parlo di cose paranormali Che capitano nella mia vita Come presenze Oggetti non identificati Che si fanno vedere nel cielo In piena quarantena Comunque se anche qua vi siete persi I due video dove ho raccontato Le mie esperienze paranormali Ve li lascio sempre qua nelle schede Comunque basta che andate sul canale Trovate tutto Siccome appunto a me questo argomento piace molto Però non so mai come trattarlo Perché ogni volta faccio delle premesse Che cercano di mettere a posto Le persone che guarderanno poi quel video Quel contenuto Perché si parla sempre di argomenti Che mettono sempre un po' ansia le persone No, giustamente Sono cose che ai nostri occhi Sembrano assurde Quasi inventate Sembrano cose che si trattano solo nei film In realtà, amici Queste cose sono tra di noi Sono parte di noi Ma non è detto che non esista un sesto senso Non è detto che non esista un altro modo Di percepire la realtà Oppure un altro modo di vedere Sentire le cose E allo stesso modo Non è detto che un bel giorno Capiti quella cosa meravigliosa Chiamata invasione aliena Che io non vedo l'ora Cioè proprio Stanno lì col cartoncino Tipo quei tizi nei film Che dicono Stanno arrivando Stanno arrivando Ecco io sarò lì dicendo Prendetemi con voi Lo metto sempre in dubbio Ma dopo quello che ho visto Ho sempre più conferme Del quel qualcosa Che non ti dà Proprio una conferma Ma ti dà delle Ti dà degli spiragli No? Quegli spiragli che sta a te poi Continuare a A credere O meno È un po' come la fede Io ho la fede Nel cosmo Ho la fede nella vita Al di fuori del nostro Sistema solare E soprattutto Ho la fede In altre forme di vita Perché vita non è detto Che voglia dire Essere un Un essere umano Essere una persona O un animale O una pianta O ci sono Ci possono essere Altre probabilità di vita Altre dimensioni Altre situazioni Mi fermo Perché se no qua Poi sfociamo Nell'idea che ho Del cosmo L'universo Tornando a noi Qua se volete Facciamo un altro video Dove vi parlo Di quello che penso Dato che sono Una appassionata di fisica Del mondo subatomico E di tutte quelle cose Che secondo me Anche lì gira tutto intorno A una bella matrioska Siamo una bella matrioska E niente Secondo me Non capiremo mai Che ci stanno guardando Anche perché Effettivamente Mettiamo caso Che qualcuno Ci sta guardando Il classico Grande fratello Di cui tutti parlano Da sempre Mettiamo caso Che ci stiano guardando Che quest'occhio gigante Ci stia guardando Ci stia osservando Quando voi osservate Una formica Io non penso Che la formica Sappia che noi La stiamo osservando O nel senso Non penso riesca A mettere a fuoco Effettivamente Tutta l'immagine L'insieme La circonda E soprattutto Non penso riesca A mettere a fuoco Il fatto che ci sia Una cosa Differente da lei Quindi dal suo corpo Dalla sua vita Che esiste Che vive come lei Intelligente E che la osserva Cioè io non penso Che siamo così avanti Da pensare Da vedere Da provare A percepire Una roba del genere Ed è per questo Che io credo Nel paranormale Ma non il paranormale Spaventoso Non quelle cose da Oh mio Dio Un fantasma Io penso che ci siano Delle forme di vita Diverse Diverse da quello Che siamo abituati A cui siamo abituati A vedere Questi racconti Non vedo l'ora Di analizzarli con voi E leggerli per la prima volta Perché ovviamente Io non li ho ancora le State tranquilli Che se in futuro Condividerete mai I vostri segreti Con moi Alla posta di Gloria Rimarrete sempre In anonimo Ciao Gloria Da 4 anni E questa Devo bere Questo maglioncino Mi fa goffa Inizio subito a dirti Che mi sono trovata Moltissimo Nella tua esperienza Con gli UFO In quella Con tuo papà E quindi Voglio raccontarti Le mie Parliamo di almeno 8 anni fa Era una serata estiva Con delle amiche Del tempo Eravamo andate a saltare Su dei tappeti elastici Del mio paese Che si trova in montagna Il cielo era molto limpido Si vedevano le stelle Stavamo saltando Ed io ad un certo punto Mi fermo Perché soffro d'asma E non so come Mi viene ad alzare la testa E a quel punto Vedo qualcosa A lampeggiare sopra di me Ad un'altezza Di una ventina di metri Io immagino la scena Tu sul tappeto So cosa vuol dire Avere l'asma Ne ho sofferto Fin da piccola Di asma Usavo il ventolino Anch'io Sorella E capisco la situa La cosa in questione Che penso fosse un UFO Non emette nessun rumore Nessun ronzio E non poteva essere un drone Perché ancora non erano usciti In commercio Ed era troppo grande Soprattutto non poteva essere Un elicottero Perché fanno rumore Anche se stanno fermi Appunto a meno che non sono Dei mega Non so colibri Fatti ad aereo Ancora Che io sappia Non esistono Mi metto a fissare questa luce Perché non sapevo darmi spiegazioni Ma non ero nemmeno spaventata E ad un certo punto Comincia a fluttuare Spostandosi verso nord Finché poi è sparita Dietro le montagne Eravamo in cinque persone Più o meno Questa luce l'ho vista solo io Ricordo benissimo Che poi sono tornata a casa a piedi E continuavo a cercare Quella luce nel cielo Ma non si è più vista Come vi ho detto prima Nel video precedente Avevo raccontato Questa mia esperienza Il primo lockdown Che c'è stato Di questo UFO Che vidi Ed era molto nitido Molto grande Era molto leggero Praticamente non emetteva Nessun rumore Se ne stava lì E io lo guardavo E lui si muoveva Tempo di prendere il telefono Riprenderlo Come quando inquadri la luna Ma in realtà Non ti viene la luna Ti vengono tipo Tre puntini della luna E tu fai Eh what? Non si poteva riprendere Infatti quando mi capita Di vedere questi video Su TikTok Dove ci sono persone Che inquadrano oggetti Volanti Come mai quando si riprendono Questi UFO La qualità fa sempre schifo Bene Io penso che sia Non lo so Un modo per celarsi Da una parte Ma non penso sia neanche così Troppo studiata la cosa Semplicemente Come vi dicevo prima Ci sono percezioni E percezioni Ci sono i sensi I cinque sensi Ci sono modalità Nell'applicare questi cinque sensi E creare tecnologie avanzate Per poter riprendere cose Di tutti i giorni Come le foto I video Gli infrarossi E bla 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 E tante altre magnifiche cose Che vanno a ricostruire Poi quella che è l'immagine reale O di quel qualcosa Che si sta guardando Proprio perché si parla Di cose che non conosciamo Non possiamo sapere Effettivamente queste cose Come comunicano Come esistono Ok? Tra di loro Tra l'altro Si percepiscono Perché magari È un'altra dimensione Tra di loro Si percepiscono E si vedono E va tutto bene Hanno un'altra vita E noi come ciechi Non li vediamo Ok? E a volte capita di vedere Dei glitch E dici ma In get senso Quindi semplicemente Secondo me Non abbiamo ancora La tecnologia O in quel momento In cui si stanno Facendo vedere Vengono disturbate Da quelle che sono Le onde Che possono lasciare Infatti mi è capitato Di vedere un documentario Su questo Che mi aveva girato Un mio amico Che ai tempi Gliel'aveva fatto vedere Un ufologo Era molto interessante Perché parlava Di questi vari incontri Ravvicinati C'era questo signore Che ha raccontato E più persone Poi nel corso del documentario Che avevano raccontato Come la vegetazione Intorno A dove avevano Effettivamente visto Questo oggetto Non identificato Avesse rovinato Tutto il contorno Di dove si era appoggiato Ok Di dove l'avevano visto Tutta la vegetazione Appunto Era come quasi invecchiata Come se fosse Non proprio bruciata Proprio svuotata Invecchiata Questo mi ha fatto pensare Cioè nel senso Ci sarà un modo In cui utilizzano L'energia Per viaggiare Nel libro di fisica Che riguarda I buchi neri C'è un bellissimo schema Di come le onde Elettromagnetiche Vengono classificate Tra rossi Luce visibile Microonde Gamma Raggi X E via dicendo Radio Bla 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 Che sono quelle Che poi utilizziamo Anche noi Per la cura Magari dei tumori Le onde radio Tutto gira Intorno all'energia Puoi vedere Che questi Esemplari Diciamo Di cose Volanti Viaggiano Utilizzando l'energia In un modo Che noi non possiamo Ancora percepire Secondo me Anche per quello Che fanno interferenza Poi con i telefoni O con tante altre cose Ecco perché magari Anche si muovono In un certo modo Perché non utilizzano Un carburante Ok Una combustione Non hanno combustione Nel volare Chi lo sa Quindi ha senso Quello che hai visto Perché ti capisco L'ho visto anche io Questa volta Questa volta Parliamo del 2015 2016 Il 2 dicembre 2015 È morto mio nonno Aveva 84 anni Si è ammalato Nell'arco di poco Mi dispiace tantissimo Per me è stato un grande colpo In quanto ero molto legata E lo sono tuttora Perché lo sento sempre con me Vabbè ma ovvio Rimaniamo sempre legati Era morto da un mesetto Pensavo fosse gennaio Una notte mi addormento Mia mamma non stava molto bene E si era presa una fortissima bronchite Che faceva fatica a guarire Povera Mi ritrovo a casa dei miei nonni Che stavano esattamente sotto il mio appartamento E parlavo con mia nonna Di non ricordo cosa E guardo verso le stanze da letto Era tutto buio Perché era sera E vedo uscire mio nonno dalla stanza Circondato da questa luce calda e avvolgente Che trasmetteva una felicità Tranquillità Incredibile Comincia a parlare con me Rassicurandomi che lui stava molto bene E che da lì in poi Le cose sarebbero andate bene E che mia mamma si sarebbe ripresa molto presto E nel sogno ci avviamo Verso la stanza di mia mamma E le dico Mamma Ho visto il nonno È qui con noi E ad un certo punto Mi rispunto davanti lui E negli occhi aveva le immagini Dei suoi genitori Nonché i miei bisnonni Che non ho mai conosciuto Come se fossero lì a vegliare A questo punto Mi risveglio in lacrime Nel pieno della notte Non ho fatto un sogno così lucido Così pieno di emozioni Così vero E me lo ricorderò per sempre Perché non so spiegarmelo Con questo Cara Gloria è tutto E credo che esistano gli UFO Credono i fantasmi I folletti Non siamo soli in un universo Fammi sapere cosa ne pensi Un bacio E ti ringrazio per la tua condivisione Il secondo sogno non sogno Mi è piaciuto tantissimo Perché anche qua abbiamo un sacco di cose in comune Ma poi ho notato Che abbiamo veramente Tante cose in comune Ed è bellissima questa cosa E questo sogno non sogno Anche qua Ve l'avevo raccontato Nel precedente video Io lo chiamo viaggio astrale Perché ero effettivamente Da un'altra parte In un limbo Ero con mio padre E avevo visto questa stessa luce bianca Avvolgente e calda Che però non dava fastidio da guardare E non riscaldava come Un calore Come il sole Era un caldo diverso Era un caldo energetico Era un caldo Di vita Non lo so Quindi ti capisco Anche questa cosa potrebbe essere Potrebbe essere Continuiamo a crederci raga Prima o poi Questa cosa mistica Si paleserà E capiremo il senso di tutto Magari non da vivi Chi lo sa Io spero un giorno di sapere la verità Passiamo alla prossima Spero tanto che tu passerei A leggere La mia mail Lo sto facendo Ti fico praticamente dall'inizio Che dire Sei meravigliosamente meravigliosa Ma amori Allora Premetto già che io Amo tutto ciò che riguarda Il mondo del paranormale Mi affascina un sacco Ma allo stesso tempo Mi fa anche paura Come la maggior parte delle persone Allora Ho avuto qualche esperienza particolare Ma io te ne voglio raccontare Una che solo al pensiero Ero brevidisco ancora Due anni e mezzo fa Se non tre oramai È venuto a mancare mio zio Mi dispiace tantissimo Una sera ero parcheggiata Sì ho la patente Ma questo non c'entra nulla Nel parcheggio Ti chiedo scusa Per il gioco di parole Del cimitero Del paesotto Di campagna Dove abitavo prima Perché una persona Di mia conoscenza Abitava a pochissimi passi da lì Vabbè Insomma Sono lì in macchina Che aspetto appunto Questa persona Ad un certo punto Mi scappa la pipì Purtroppo E dico purtroppo Sono dovuta scendere Per farla Perché non sarei riuscita Nemmeno ad accendere La macchina Per fermarmi in un bar E andare in bagno Premetto che Non ho letto passati di sera Ovviamente il cimitero A quell'ora è chiuso Ed ecco la parte Che mi farà brividire Da dentro il cimitero Sento la voce Di mio zio Che mi chiama A mo' di domanda Insomma Due o tre volte Mi sento chiamare Prova ad immaginarmi Fuori dalla macchina Appena finito Di fare pipì Cioè Tu mentre facevi Accovacciato al buio In pieno inverno Mio dio Come ho sentito La sua voce Sono balzata in macchina Ho messo la retro In velocità PS Ho preso un paletto Anche mentre ero in retro E sono scappata Dall'altra parte Ad aspettarlo Ah ovviamente Mio zio non era stato Sepolto in quel cimitero Ma in tutt'altro posto Non di quel paese Ma dove era andata Ad abitare lui Nei suoi ultimi anni E questo è tutto Grazie per la tua condivisione I cimiteri Anche qua ho passato Dei momenti Al cimitero E detta così fa brutto Lo so Mi spavento più Mi spavento degli esseri umani Spavento degli esseri umani Con secondi fini Con fini cattivi Non ho paura Di quello che non conosco Anzi Mi fa paura Proprio l'essere umano Cioè È una cosa Che non riesco a capire Non mi fa paura Se la mia amica Li lascia aperta la porta Mentre in casa Mi spunta da dietro E io tipo Ah ciao Non salto in aria Ok Non ho paura Se le cose si muovono La tenda si muove Di fianco a me La mia amica Così dal nulla E fa un cerchio strano Non ho paura Se cadono le cose dal nulla O esplodono bottiglie In piena notte Al di fuori di casa mia Come di macchina Che viene addosso al muro E poi non vedo niente Lì mi cago in mano Perché dico Ma non è che allora Sono entrati dei ladri Cioè Io ho più paura Di queste cose Che Boh Vabbè Delle persone che non ci sono più Di altre entità Mi sono ritrovata Perché tempo fa Facevo ghost hunting Con altre persone Mi era capitato Con tutta l'attrezzatura Di stare più volte Di notte In cimiteri Ovviamente Con permessi Era tutto regolare Voci Suoni Chiamate Da persone Boh Da voci Che sentivi così Le ho ricevute anche io E non ho mai capito Effettivamente Se legare l'immagine Del cimitero Come Una Sospensione Delle entità Un punto di ritrovo Non ho ancora capito Il cimiterio Effettivamente Se sento O non sento qualcosa Mi hanno sempre dato l'idea Di un qualcosa Che non c'è Ogni volta che andavo Ai cimiteri In realtà Non sentivo niente Ogni volta che stavo Nei cimiteri A fare ghost hunting Sentivo voci e cose Non mi provocavano In realtà La stessa cosa Che magari mi provocano Quando capitano qua a casa In quella zona capitano cose Quindi come se mi stessi riferendo A John Che so che è da quelle parti John è tipo il nome d'arte Che gli ho dato Allo spirito di questa casa Perché secondo me C'è uno spirito in questa casa Magari sono io stessa Magari sono pazza Probabilmente Però mi piace chiamarlo E mi piace chiamarlo E guardare di là Dunque alla regia Quindi dicevo Questa cosa I miei cimiteri Non l'ho ben capita E non riesco ad attribuire Effettivamente Un senso Alla parte Paranormale Del cimitero Non so cosa dirti Però è interessante Che tu abbia sentito Scandito bene Proprio il tuo nome A mo' di domanda Con la voce di tuo zio Magari sono dei portali Cosa ne pensate voi Di queste cose qua Di cimiteri soprattutto Ciao Gloria Mi chiamo M Ho 28 anni E ti iscrivo da Roma Dopo aver visto il tuo video Ho deciso di inviarti una mail Quindi eccomi qui Questo genere di racconti Mi hanno sempre affascinata Anche se non tanto Quanto le esperienze Vissute in prima persona Nonostante ciò Mi piacerebbe renderti Partecipe di un'esperienza Che ancora mi mette I brividi a raccontarla Quattro anni fa Mi sono svegliata Nel bel mezzo della notte E ho visto Al lato del letto Una figura incappucciata nera Ora io non so Cosa o chi fosse E non sono sicura Di volerlo sapere Ma lasciate la libera interpretazione Purtroppo Per fortuna Non sono riuscita A cogliere molti dettagli Perché è stata questione Di qualche minuto Ma ricordo solo Che ho percepito Questa sagoma nera Che mi stavo osservando Ovviamente in quel momento Mi sono spaventata E ho avuto l'impressione Che quella apparizione Non fosse assolutamente Il risultato di una paralisi Del sonno Ma un presagio di qualcosa Che sarebbe venuto a breve Un avvertimento A questo punto Ti sarei chiesta Avvertimento per cosa? Qualche mese più tardi Sono stata operata Al seno Per un nodulo E otto mesi dopo Quindi A neanche un anno di distanza Dalla prima operazione Mi è stata asportata Una ghiandola salivare Dietro l'orecchio Perché al suo interno In seguito ad esami Avevano rilevato Delle cellule anomale Uh Ho un attimo Un buu Mi ha fatto pensare Sta cosa tantissimo Continuo Il fatto di aver successivamente Collegato le due cose Mi mette davvero ancora i brividi Ora sto bene Anche se devo sottopormi A controlli periodici Perché i medici Mi hanno detto Che questo genere di cose Tendono a ritornare Questa è la fine del racconto Anche se ci sono ancora Un paio di cose che accadono Che non riesco a spiegarmi Ma credo di essermi Dilungata abbastanza E che sia il momento di salutarti Nooo Voglio sapere Un abbraccio grande M Continua il racconto Continuate a scrivermi Vi ho detto Siate spicci per il video Ovviamente per non stare a leggere 3000 papiri Ma siete liberi di scriverli Cioè nel senso Non vuol dire che poi non li leggono Mi dispiace tantissimo Per queste cose Che ti sono capitate Ed è assurdo Pensare Che tu qualche mese prima Avessi visto già Questa immagine Un po' sfocata Come da avviso Come alarm Beh probabilmente appunto Non era un'immagine cattiva Anche questa cosa di associare A queste cose che vediamo Come cattive o buone È una roba Da essere umano Cioè là fuori Nel cosmo Non c'è buono e cattivo C'è vita e morte E la morte non è una cosa cattiva E la vita non è una cosa buona È tutto un ciclo Tutto succede per una ragione E la ragione magari sei tu Non ho niente da nascondere E tu? Scherzi a parte che devo sempre farla babba Però capite il senso Cioè lo ying e lo yang Sono la rappresentazione Di quello che sto dicendo Non esiste l'uno senza l'altro Non dobbiamo aver paura di questo Perché è una parte che non conosciamo È vero che la parte che non conosciamo Fa paura Ma dobbiamo imparare ad abbracciarla Perché potrebbero arrivarci Potremmo cogliere segnali Di cui oggi magari non Pensiamo che non siano rilevanti In realtà in futuro Possono rivelarsi interessanti Mi dispiace che tu comunque Sia adesso un po' legata A questa storia delle cellule anomale Ecco che continuare ad andare a fare controlli Mi dispiace tantissimo Proseguiamo Ciao Gloria Ti scrivo in anonimo Per poter condividere La mia esperienza paranormale Avvenuta un paio di anni fa Con cui tuttora faccio fatica A razionalizzare Ero una mattina normalissima Ero in cucina a fare colazione Come sempre Ero la prima della famiglia Che si alzava presto La mattina Per poter poi andare a scuola Stavo appunto mangiando E intanto mi tenevo compagnia Con il cellulare Ad un certo punto Inizio a sentire Una strana sensazione Per tutta la stanza Una sorta di vibrazione Non so ancora spiegare Il come Mi sono sentita in quel momento Ma di punto in bianco Mi sono paralizzata E ho avuto l'istinto Di posare il cellulare Sul tavolo E di alzare lo sguardo Voglio precisare Che l'unica luce Che c'era in quel momento Era della cucina Tutto il resto Era circondato dal buio Non appena i miei occhi Si alzano come Attirati da qualcosa Vengo rapita Da una figura di donna Che cammina lentamente Al di fuori della cucina Verso qualcosa Davanti a sé Guarda dritto Con lo sguardo Dritto davanti E sembra che non sia minimamente Non si sia minimamente Accorta della mia presenza Inizio a notare Dei dettagli Intanto la figura Era illuminata Come da un alone intenso E questo Come già precisato prima Non poteva essere possibile Perché era tutto scuro A parte la luce Della cucina Dove mi trovavo io Della cugina In più la donna Sembrava avere sembianze Di un'altra epoca Giovane Alta Pallida Con lunghi capelli biondi E un vestito lungo bianco Che nascondeva i piedi I quali non ho mai visto Inoltre fluttuava Io non vedevo Una fine del vestito Era come se fosse cerchiata Da una patina opaca Sono male Ma così dettagliata Anche io voglio vederli Io ero completamente paralizzata Non riuscivo a muovere Sentivo solo un gran freddo Attorno a me Tipo stile di senatori Dopo dei buoni secondi È sparita Continuando a camminare Davanti a sé Come se fosse in cerca di qualcosa Sono passati anni Ma ancora non mi spiego Come sia potuto accadere Ho chiesto ai miei familiari Se erano passati loro E se era tutto frutto Della mia immaginazione Ma loro dormivano E si sono alzati Molto tempo dopo l'accaduto A pensarci ancora Quell'immagine vivida Che appare come un ricordo È qualcosa che non riesco a spiegare Magari tu sapresti dirmi qualcosa Su questa figura Grazie per avermi letto Grazie a te tesoro Ma che bello Ma a parte che hai Una sensibilità Se quello che hai detto Lo hai proprio percepito In questo modo Come l'hai descritto È una sensibilità Che tipo ti sto invidiando Tantissimo Quella patina opaca Quella cosa un po' opaca Che non ti fa percepire bene Non ti fa capire bene Io poi ci vedo da dio E quando capitano queste cose Non vedo mai bene Cioè sono tipo Non sei andata alla ricerca Che magari in casa Prima di voi abitava Una donna Un qualcuno Tutte le case in cui sono stata Ho fatto delle ricerche Ho chiesto a mia mamma Di chiedere ai padroni Della casa Dove stavamo Se fossero morte persone All'interno della casa Infatti La maggior parte dei casi La risposta era sì Raga è normale Ci muore anche la gente Le cose che sentivamo E vedevamo Erano legate A quell'energia lì E fossi in te Chiederei più informazioni Se hai una seconda parte Amica Scrivimi subito Leggiamo L'ultimo racconto Paranormale Perché le altre Lettere che mi avete scritto Sono inerenti A Mental Breakdown Posta del Cuore Ciao Gloria Mi chiamo F Ti racconto un episodio paranormale Anche se è stato bello Partendo dal presupposto Che io ogni volta Che qualche parente viene a mancare Puntualmente lo sogno Una cosa che capita A tutte le persone Credo Però per esempio Mia madre Li sogna pochissime volte Comunque Nel 2019 Nel periodo di Natale Sono stata a Roma Da mia zia Insieme a mia madre Il mio ragazzo Questa mia zia è vedova Purtroppo quando è morto mio zio Io non sono potuta andare Perché presi dalla fretta Di partire Io vivo in Calabria In quel momento È salita solo mia madre Fatto sta Che da quando questo mio zio È morto Lo sogno spesso Comunque una sera Mia zia Aveva avuto una discussione Con la figlia E tornati a casa Di mia zia Noi tre dormivamo lì In camera Da pranzo Forse sala da pranzo Vabbè Mentre in camera da letto C'era l'altra zia con il marito Questa mia zia Dal dispiacere Per la litigata con la figlia Si mise a piangere Andò a letto Verso le 2.50 di notte Sento mia zia alzarsi Per andare in cucina E andare a bere E fino a qui tutto ok Alle tre in punto Non so per quale motivo Mi giro verso la porta E vedo un'ombra Davanti al letto di mia zia All'inizio ho pensato Forse stai sognando C'era la persiana Quindi un po' di luce Dei lampioni entravano Anzi ho pensato Che fosse mia madre Il mio ragazzo Però alzandomi un pochino Mi guardo intorno Vedo il mio ragazzo dormire Mia madre pure E Ida e mia zia E quell'ombra stava sempre lì Ho messo anche gli occhiali Pensando che la vista Mi stesse facendo scherzi Cioè tutto ciò Questa immagine rimaneva là Assurdo Ad un certo punto Vedo l'ombra Che fa il gesto Tipo di togliersi il cappello E chinarsi verso mia zia Si è tirata su Ed è stata lì Al 13 secondi E poi è scomparsa Inutile dirti Che la mattina dopo Mi sono svegliata Piangendo Raccontando tutto A mia zia e mia madre E mi hanno detto Che sicuramente era mio zio Che venendo da mia zia Dispiaciuta Era venuto per consolarla A distanza di due anni Quella scena ce l'ho impressa Davanti agli occhi Un bacio gloria Voi vedete In HD Potete far pausa Cioè nel mentre potete Tipo cucinare Mettere video occhiali Guardare se sono tutti Nelle proprie stanze E capire Che è effettivamente Quella cosa E loro rimangono lì Il tempo di dire Cosa è stato Sei qui Dove sei Puff Oppure il tempo di reagire Fare tipo Puff Scompaiono E a voi rimangono Dovete spiegarmi cosa fate Da una parte ho pensato Ma non è che tante volte La paura Qua apriamo un altro discorso Quando abbiamo paura Produciamo in minima parte Anche qua L'adrenalina No Comunque Questa sorta di eccitazione Post adrenalina Quando l'adrenalina Si ossida Penso che comunque In questi momenti In cui abbiamo Curiosità E paura Produciamo quel qualcosa Di cui tante energie Secondo me Si cibano Ed è per questo Che si mostrano A più persone Che hanno paura Qua entriamo Nell'argomento Molto particolare Un po' più profondo Che non so se voglio trattare Perché ci sono diverse teorie E è molto interessante In realtà Però Probabilmente Ci sono Cose Nel nostro Spazio Non percepibile Che potrebbero Cibarsi di questo Infatti Quello che dico spesso Alle persone Che mi dicono No no Io ho paura C'è tipo A mia amica Sarà Si caga in mano Eppure capitano Con lei le cose E io le dico sempre Non devi aver paura So che non puoi controllarla La paura Però quando capitano Frizzati Cioè proprio Congelati Respira E fai il punto Della situa E pensa Se sono così fortunata A vedere una cosa del genere O a sentire una cosa del genere Questa è la risposta Della vita Io non so tante volte Come le persone Arrivino a spaventarsi Io non vedo l'ora Di sapere Che cosa succede Cioè io non vedo Io mi sento così grata Quando capitano queste cose Per me sono la conferma Dell'esistenza Di quel qualcosa E quindi non mi spavento Anzi ne ho sete Ne ho bisogno Quindi avendo bisogno Di questo tipo di cose Probabilmente a me non capitano Non spesso Non perché comunque Per conferme Perché comunque Nella mia vita Io di conferme Ne ho avute anche tante Più sai Più vuoi sapere Io la chiamo evoluzione Consapevolezza Muoviamoci A rendermi consapevole Perché io lo voglio sapere L'esistenza Il frutto della vita Cos'è Tutto questo Siamo nel cyberspazio Siamo in una matrix Siamo tutti Una Qualcosa Che non esiste In realtà esiste Non c'è tempo e spazio Mi mandano fuori di testa Queste cose Quindi direi di chiuderla qui Se vi interessa Questo argomento Vi aspetto appunto Alla posta di Gloria Caccia GloriaFair.com Io spero che Questo video Intanto vi sia piaciuto Vi abbia tenuto compagnia Spero di non avervi Fatto cacare in mano E ringrazio tutte le persone Che hanno condiviso Le loro storie Vi mando un mega abbraccio E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao